no ok ragazzi benvenuti in questo nuovo episodio di portal 2 m questa settimana e anche la prossima settimana in pieno di video di portal perchè davvero voglio finirlo e non ho neanche un qualcosa per vedere l'orario ok dovrò andare in mente davvero niente per vedere l'orario no i porti non ho non ho letto niente di quello che ha detto lui però vabbè ok dai non posso sparare a portare lì 40 batterie con le patate batterie con le patate ragazzi mi inizio a preoccupare ma potevo passare anche di là vabbè andiamo solo devo aumentare un po' la sensibilità l'orario assolutamente garantirei 100% che è qui no no ah di qua ok io mi fido eh se poi non è così ok cariamento ho un brutto presentimento intanto la mia energia mi sta lentamente uccidendo perché adesso mi sono cancellati i portali vabbè dove sei tu dove sei che cosa va bene in alto nel senso qui come fai a essere già qui oh povera torrette dove sono cattive qui c'è un laser che so come usare a me aiuto tu sei scemo tu sei cretino io non riuscirò oh ma qui c'è oh ma qui c'è oh ma qui c'è ok vediamo un pochino come ok vediamo un pochino come dice qualcosa dove non posso sparare no scusate come dovrei fare qui c'è un pulsante che cosa ho fatto io ho provato questo pulsante non sapevo ok ma vabbè si è aperta la porta sicuramente devo sparare un portale ho capito ho capito ti vuoi stare zitto non puoi pensare no ho sbagliato eh il portale è blu devo sparare il portale blu ok magnifico ok vediamo un po' se funziona funziona oh ma anche lì perfetto devo tagliare solo l'ultimo accidenti come che si faceva lo zoom ok dai su passa ottimo avrei la porta ho un brutto presentimento non mi piace quel tubo non mi piace questo tubo non mi piace come si sta facendo aiuto ragazzi ragazzi eccomi ma perchè dobbiamo andare da lei non ho capito ma non ho capito non stavamo cercando di scappare lui mi dice andiamo da lei se io non capisco quanto sono saranno circa 5 minuti vero o 2 minuti ma ma devo girarla io la visuale anche ah no ok va bene basta che davvero aiuto aiuto ok no 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 va bene mi troverai io mi fido ragazzi non so che cosa devo fare spero che non dovremo affrontare GLaDOS cioè io non sono pronto non so fare niente portare l'arancione si perchè mi sta dicendo i comandi tu ti apri? no ok credo proprio di dover andare lì non mi piace questa stanza non mi piace sono scivolato posso aprire la porta? si posso GLaDOS GLaDOS non farei caissate uffo però e io che cioè era la prima porta che eravamo riusciti ad aprire ah no pensavo ci scherzasse che scherzasse il gabinetto ciao let's get to business I hope you brought something stronger than a portal gun this time otherwise I'm afraid you're about to become the immediate past president of the being alive club GLaDOS ciao da quanto tempo c'è 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 che cosa vuoi fare? oh you were busy back there GLaDOS che cosa volevi fare? le neurotossine? che co... quale idea migliore le neurotossine? se io ero tu prendo un profondo si si certo certo dove sei? aiuto muori ti senti piuttosto bene? ma che cosa? come trasferimento nel nucleo? collegarti? dove sei? ah eccosi ma dov'è? ah ok ma dove? ah ok ah ok ah ok si vedete di non fare cose vedete non fare cose sbagliate Io ti ho aiutato Ricordati che io ti ho aiutato Ti ho aiutato a sopravvivere io Ti sto facendo uscire Ti sto facendo uscire Che cosa devo premere Perché lagga Io mi faccio un portale lì Guarda ma stai zitta Ok scusate Aveva laggato un po' Dove siete? E' una cosa orribile Meno male che non la fanno vedere Oh ciao Ho il controllo di tutto Ma sei fortissimo Dai chiamo l'ascensore Grazie Non fare queste risate Non fare queste risate Che cosa vuoi fare? Che cosa? No E' vero sono stata io Che sta facendo? Che sta facendo Ma non è vero Oh no Oh no ragazzi Non mi piace Non mi piace Quello che sta facendo Posso toglierti da lì? No Che cosa? Davvero Questo era Glados Scusate di nuovo la piccola interruzione Ma è orribile Che cosa? Non ci credo Bravo Distruggi la scendora Oh oh Patata Vieni qua patata Ragazzi voglio attaccarmi Voglio attaccarmi Glados La patata Alla Ho cambiato il caricamento Alla pistola Perché so che si può fare In minecraft Si può attaccare Una patata Alla pistola La caduta Chissà perché Si chiama la caduta Beh tu come te la passi? Tu sei una patata Bravo ma dove sei Lo so Lo so Lo so Ah eccoti Va bene Solo se riesco a prenderti Non l'ho presa Mi sa Vabbè che abbiamo Quegli stivali Che ci fanno cadere Da Possiamo lanciarci Da Da una galassia Di persa E andare A Alla velocità A una velocità Impressionante Sulla terra E non ci faremo niente O forse qualcosa Ci faremo C'è un corpo Che sta mangiando Glados Ho ancora la pistola Davvero non ci siamo Perché non c'è la mia ombra? Perché non c'è Il mio rispalesso Nell'acqua Sono davvero Una pistola volante Neanche la pistola Si riflette Nell'acqua Perché Glados Glados mi senti? Glados dove sei? Ho paura Glados 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 Ti prego Glados Non mi piace per niente Questo posto Glados Ti prego Glados Dove sei? Glados Glados Non posso sparare il portale Glados 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 Ti prego Dove sei? Ragazzi ho paura Questo ambiente Sta facendo tipo Slender Sto sprofondando Nell'acqua Tanto siamo Uno spettro Senza volto Posso andare Nel fuoco? No Non posso andare Nel fuoco Glados Non so che devo fare Glados Perché sei così obesa Perché non riesci a passare Qua in mezzo O è un muro invisibile No non è un muro invisibile Allora sei obesa tu Forse devo risalire In qualche modo Posso sparare portali E invece no Oh che figo Ho fatto davvero bene Anche in acqua Ho fatto benissimo Sì ma cosa devo fare? Dove devo andare? Portali non posso spararne Patata Glados Oh uno lì posso Ah sono stupido Era semplicemente questo Eh però se sono così stupido Devo non saper saltare Neanche Eh qui Ok No da lì sono appena arrivato Andiamo qui Scendiamo Saliamo Ma non c'è niente No Questa donna fa la discesa Come se niente fosse Io non posso fare una discesa Senza andare velocissimo Allora un portale qui Uno 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 dove? Ah lì Ok ok Perché ci sono le superfici bianche? C'è un percorso qui Credo che Credo almeno che dovessi saltare giù Perché ci sono pezzi di torrette ovunque? Di qua non posso andare Vediamo un pochino il destino Dove vuole che vada Su Keep out Eh ma keep out Non entrare Non entrare Eh non posso andare da nessuna parte Posso aprire la porta Perché non sai aprire le porte Donna Aprire questa porta Zoom Perché devo zoomare? Perché devo zoomare? Perché? Ah No Qui dentro non posso vedere niente Forse nel buchino No Ma perché ha detto che potevo fare lo zoom con Eh ragazzi sono già bloccato Questo muro non c'era prima E dov'è che dovrei andare? Ah Ho capito Cioè scusate come facevo a vederlo dall'aggiù? Vabbè L'ho visto Ah qui e lì mi so Va bene Va bene sì Allora vediamo un po' È già un bel po' che sto registrando Ma questo episodio lo voglio fare a più lungo Dove sei il portale? Da dove sono venuto? Ok Eh ragazzi non Sono tornato qua Ma non ci posso credere Non attend Don't enter Enter Keep out Keep out Sicuramente Sicuramente Non preoccupatevi Ma dove ha portato Quell'uccello La patata? Io cammino sul tubo Perché sono cattivo Anzi cattiva Ok Aziono tutto io Voglio andare lì È tutto vetro Oh posso sparare a portale qui? Oh posso anche andare lì Se voglio Sono sopra Non ci faccio niente sopra Uno Zero Ah ho capito No qui Ma che Va bene Non fa niente Ok Perfetto Adesso mi arrestano Musi sta aprendo qualcosa Saliamo Perché hanno messo i giri così lunghi da fare? Apri Apri Ok grazie Non posso prendere la sedia Posso aprire la porta Alleluia Una porta che questa qua sa aprire È un bel po' che sto registrando Vabbè La faccio un pochino più lunga Questa puntata Scusate se i miei commentari Su Portal 2 Sono un po' Vabbè Sono un po' Pochi ma Cioè Portal 2 è un gioco Che si commenta da solo Scusate un attimo Sono al telefono Ok ragazzi Mi dispiace Ma il video termina qui Perché senza accorgermi Ho già fatto più di mezz'ora di video Quindi ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti